persino in un particolare, in una unghia, venite a Conad Nail Art. Sì, ci sono diversi tipi di kit dove potete trovare diversi disegni con i dischetti e si può decorare le unghie semplicemente. Allora, ci sono questi dischetti con i disegni e ci sono smalti speciali. Voi dovete coprire il disegno scelto con lo smalto, che è un po' più denso di quelli normali, e dopo togliere l'accesso con un reschietto, dopo c'è un timbrino con la gomma, prendi il disegno e puoi fare, girando la gomma, il disegno sull'unghia semplicemente, anche a casa. Dopo, come l'ultimo passo, puoi coprire tutto questo disegno con uno smalto trasparente, così il disegno diventerà fissato e rimane per una settimana o anche di più. La sede centrale è in Ungheria, dicevamo, e poi c'è un agente speciale per l'Italia che vende questo prodotto unico nel suo genere. Sì, così, però la nostra ditta fa soltanto due affiere. Questo è a Milano, in dicembre. Quindi per tutti gli affassionati o si rivolgono a Firenze o a Milano. Grazie. Grazie. Grazie.